Da grande vorrebbe fare il medico del 118. Nel frattempo si esercita aiutando gli anziani idealizzati o con difficoltà motorie. Matteo Scalinci, quattordicenne di San Pancrazio Salentino, è stato insignito dal presidente Mattarella della prestigiosa onorificenza di Alfiere della Repubblica per le doti e la sensibilità verso le categorie più fragili del territorio. Così recita la nota del Quirinale, per ora comunicata solo telefonicamente. Per il ritiro a Roma bisognerà attendere la fine dell'emergenza. Studente al liceo scientifico, Matteo ha iniziato il suo impegno nel sociale ad 11 anni. Ho iniziato tramite i campi scuola della protezione civile, poi pian piano quando ho raggiunto l'età di 14 anni mi sono potuto iscrivere e partecipare attivamente. E proprio nell'ambito della protezione civile ha fondato un gruppo di volontari junior composto da una quindicina di ragazzi fra i 14 e i 17 anni con i quali supporto agli operatori che aiutano gli anziani. Adesso portiamo ad esempio le persone idealizzate con l'ambulanza al pronto soccorso oppure persone con problemi motori al pronto soccorso se devono fare qualche visita oppure ad esempio andiamo a trovare gli anziani nelle case di cura. Una grande soddisfazione per la comunità perché insomma tra i 25 ragazzi di tutta Italia abbiamo uno dei nostri ragazzi, figlio della nostra comunità, figlio della nostra associazione, figlio comunque di persone a noi molto vicine. Grazie